Musica Incidente questa mattina, mercoledì 28 febbraio, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale 53 tra Zegni e San Giorgio Canavese. Un Land Rover Freelander, con a bordo una coppia di rivarolo canavese, è andato a scantarsi contro il muretto che delimita la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza del soccorso avanzato di Caluso e la croce rossa di rivarolo canavese, i carabinieri di Aglie e gli agenti di pulizia locale. Subito soccorsa, la coppia è stata trasportata all'ospedale di Vrea, non sono in pericolo di vita. Sono subito intervenuti anche il sindaco Sergio Bartoli di Ozzegna e canavese soccorso, che tramite convenzione gratuita con il comune si è occupato della rimozione dell'auto e della pulizia del manto stradale. La dinamica dell'incidente è il vaglio dei carabinieri. La dinamica dell'incidente è stata trasportata all'incidente. La dinamica dell'incidente è stata trasportata all'incidente. Grazie per la visione!